E' un brano arricchiavile, semplice, ricco di fantasia, che parla di un sogno. Un sogno strano e bellissimo, ma molto comune. In un arrangiamento swing molto accattivante, le tre bande di loro direttore Guido Poni in Volare. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.